700 euro al mese per sei mesi, i 260 lavoratori della Sixti in cassa integrazione possono tirare un sospiro di sollievo, seppur piccolo, grazie all'anticipazione concessa dalla BCC abruzzese. Ma questo, ribadiscono i sindacati, è solo un primo piccolo passo rispetto ad un'avvertenza che resta ancora in piedi con tutte le sue problematiche. Giuseppe Rucci della CGL. Noi riteniamo che chiusa questa vicenda dell'anticipazione bisogna immediatamente concentrarsi su quelli che sono gli ulteriori passi di questa avvertenza. Mi riferisco alla NUCO che dobbiamo ancora con l'azienda sottoscrivere l'accordo per la sua definizione, mi riferisco per quello che riguarda le società satelliti che abbiamo avuto notizia dell'azienda che ha presentato finalmente il piano per partecipare ai bandi di start-up e soprattutto rimane in campo l'enorme problema derivante dai 300 esuberi che rimarranno fuori. Su queste questioni noi già dalle prossime settimane cominceremo naturalmente a investire sia le istituzioni e sia naturalmente anche la Confindustria perché con l'attivazione del sistema moda Chieti-Pescara vorremmo capire se anche quella struttura può in qualche modo farsi carico e quale contributo può dare per la ricollocazione e riconversione del personale.